Buonasera a tutti. Allora, arrivare a parlare dopo due giornate così intense ovviamente si rischia di essere ripetitivi e non lo meritate assolutamente. Il futuro della nostra professione ci vede da due giorni qui, ma ci vede sul campo da tempo. Io sono 13 anni che faccio il dirigente di questa federazione. Un futuro della federazione che noi vediamo grazie a questo bellissimo evento che stiamo vivendo a Firenze. Vediamo ancora più roseo, ancora più fulgido. Io credo che sia stata una bellissima iniezione di fiducia per tutti noi queste due giornate. Abbiamo visto una federazione forse che io ho sempre sognato, quella che io ho sempre sognato, riconosciuta da tutti, presente a tutti i passaggi fondamentali per la crescita del nostro ruolo, della nostra preparazione, della nostra competenza. Io sono veramente entusiasta di quello che ho vissuto. Faccio i complimenti ovviamente a tutti per l'organizzazione e soprattutto alla dirigenza, al nostro Presidente nazionale, che ovviamente basti la standing ovation di ieri e è bastata anche questa di oggi. Detto questo, ho da dare però una notizia importante. Certo, è inutile dire la professionalità, la condivisione, la formazione. Sono passaggi sui quali credo tutti siamo d'accordo. Non c'è uno in questa sala che non condivida o non vede il futuro della nostra categoria seguendo queste linee. Ma credo che la crescita della nostra professionale non può prescindere dalla crescita di FIAIP. La FIAIP si trova ad affrontare un momento particolare, perché noi fra due anni saremo costretti a rinnovare le nostre cariche. Allora credo che bisogna individuare una strategia, degli scenari e allora vi dico che noi come Campania, e poiché sono tutti presenti, devo dire tutti persone di primissimo livello, noi siamo disponibili a collaborare. Vogliamo una federazione forte, una federazione che ci proietti verso il futuro della nostra attività con maggiori certezze di quelli che da soli non riusciamo ad avere. Detto questo devo dire anche un'altra cosa. Ho assistito a delle tavole rotonde bellissime, nelle quali ha fatto da padrona ovviamente la vessazione, la tassazione che c'è sugli immobili. Tutto condivisibilissimo, ci mancherebbe altro. Ma stamattina l'onorevole Polidori è stata adorabile, persona stupenda, io l'ho conosciuta in questa occasione, che è una persona sicuramente adorabile, a un certo punto ha detto, chi dovesse ereditare un bene è una tragedia. Voglio dire all'Assemblea, se sapete qualche turno che deve lasciare in eredita. Sto qua.